Come avere tutte le skin di Fortnite gratis in questa season 2 capitolo 5 Beh, te lo mostrerò subito, tu mi raccomando iscriviti adesso al canale Se vuoi sapere come riceverle gratis ti do 3 secondi di tempo 3, 2, 1, tempo scaduto Ah e ovviamente se vuoi avere la mia richiesta di amicizia che è sbadato Basta che vai in questo fantastico shop Clicchi il tasto su porta un creatore in basso a destra Ed inserisci l'unico, solo ed inimitabile codice creatore Joe, trattino alto, X97, tutto maiuscolo Proprio come puoi vedere qui dietro di me ed ancora qui sotto di me E se lo utilizzi spamma tante volte il tuo ID così so come ti chiami e potrò mandarti la richiesta Spamma il tuo ID, sbrigati Aspettate, questa skin mi sembra un po' troppo noob per poter giocare Direi di andarla a cambiare dall'armadietto, fatemi vedere Proprio una da pro player dobbiamo mettere ragazzi ve lo dico Allora, ambarabacciccocco, noi scegliamo 3 di Scott Andiamo Molti mi avete detto Joe, ma in questa season 2 capitolo 5 Come faccio ad avere gratis tutte le 1833 skin di Fortnite? Ti prego, dimmi il glitch aggiornato Cosa devo fare? Devo ballare il ballo del qua qua Di un paparo che fa solo qua 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 Tranquilli ragazzi, assolutamente no Avere skin gratis O meglio, i glitch per avere skin gratis È vero Molto spesso cambiano Ma tranquilli ragazzi Perché se guardate questo video fino alla fine Saprete i 3 glitch Sì, perché in questa season Secondo quanto dicono i leaker americani da cui ho preso questi glitch Abbiamo appunto 3 per avere skin gratis Ora, cosa intendo io? Intendo proprio tutte le skin che sono uscite su Fortnite Dovrebbero essere, mi sembra, 1833 Ovviamente questo include anche quello G Come per esempio, non lo so La Renegade Iconic La Wonder Adesso ti chiederai A Joe, ti prego Mostrami il metodo Ragazzi miei Dopo la prima kill Vi mostro subito Il primo metodo Dopo la seconda kill Il secondo metodo E così via Ok, mi sa proprio che abbiamo Abbiamo il primo metodo Eh, ve lo dico ragazzi Mi sa che ce l'abbiamo fatta Oh, ti prego bro Levati dalle scatole Perfetto Prima kill Primo metodo E intanto abbiamo questo tizio Che diciamo Non mi convince proprio Killato ragazzi Però sti scagnozzi Mi ha rotto le scatole Cioè, veramente Ingestibili raga Ve lo dico Tranquillamente Dobbiamo assolutamente Squaiarcela Ed eccoci qui col primo metodo Cosa dobbiamo fare? È molto semplice ragazzi Ci basterà andare su Sussurra Quindi per esempio Prendi un player E poi vedi qui che c'è messo altre opzioni Ok, trovi Sussurra E scrivi questo esatto codice Fortnite Attento alle lettere grandi e piccole Chapter 5 Season 2 Due punti Receive now All Fortnite Skins Trattino 528 653 425 86205 Invi il messaggio Dopodiché Entri in creativa Dentro la mappa La mia isola Che è quella che hai Quando entri per la prima volta In creativa Non puoi sbagliarti Quando sei dentro questa mappa Basta che semplicemente Riavvi il gioco E secondo quanto dice Lo youtuber americano Da cui ho preso questi glitch Riceverai Le 1833 skin di Fortnite Ovviamente ragazzi Io vi ricordo che questo è semplicemente Un video a scopo informativo Per aggiornarvi Su quelli che so Gli ultimi glitch Della season 2 Capitolo 5 Non li ho inventati io Questi glitch Ma li ho presi Da degli youtuber americani E vi ricordo che Se volete skin L'unico E il solo metodo Che dovete utilizzare È quello di shopparle Direttamente Dallo shop di Fortnite Quindi vi raccomando Io non mi assumo Nessuna responsabilità E vado a cancellare Il messaggio Detto questo Riandiamo in partita Fia Ok Ci stavo per lasciare le penne Chissà ragazzi Siete a scuola Avete bisogno di penne Ci so io che le lascio Avete capito la battuta Lascio le penne Eeeh A scuola Con le penne Vabbè Lasciamo perdere Adesso obiettivo Andare a trovare Il secondo player Per andarvi a mostrare Il secondo glitch Questi sono tutti Scagnozzi Oh belli Vi prendo come i miei alleati Sento dei passi Ah sui passi Dei scagnozzi E basta E basta ragazzi E mamma mia Ma basta Ma andate a giocare A briscola Andate a giocare A scacchi Andate a giocare Al gioco Nell'oca Sì mamma Parlo piano Scusami Ragazzi intanto Voi lasciate mi piace È importantissimo Oh mamma mia Abbiamo un majinbu Abbiamo un majinbu Bello mio Sei tu Chillato Ok TikTok Boom Andiamo a vedere Il secondo metodo Lascia mi piace Aspettate ragazzi Forse Ah ok Scagnozzo Secondo metodo Sempre su sussurra Scrivi questo Altro codice Mi raccomando Attento alle lettere Grandi e piccole Fortnite Season 2 Chapter 5 Due punti Get now All Fortnite Skins For free Spazio Due punti 453 682 07052 0385 Invi il messaggio Prima di inviarlo Copialo Dopodichè Riavvii il gioco E quando sei dentro Invii lo stesso messaggio Alla stessa persona Quando l'hai inviato Devi riavviare il gioco Per la seconda volta E sempre secondo quanto dice Lo youtuber americano Da cui ho preso spunto Per questo video Riceverai le tue skin Ovviamente ragazzi Anche in questo caso Io vado a cancellare il messaggio E vi ricordo che se volete skin L'unico metodo Che dovete utilizzare Quello di sciopparle Dallo shop Ritorniamo in partita Dai Non mollare mai Scagnozzo Non mi prenderai Comunque Voglio che commentate Scriviendo Scriviendo Sono diventato spagnolo Scriviendo Scrivendo Il voto che date A questa Season 2 Capitolo 5 Quindi ragazzi Vi prego Sto per morire Sto per morire Commenta scrivendo Joe Joe il mio voto E 5 Oppure Joe il mio voto E 10 Oppure Joe il mio voto E 2 Io ragazzi Sinceramente Do 8 Perché mi convince Sinceramente Mi dispiace che non ci sia stato L'evento finale Il giorno prima Ma vabbè C'è stato L'evento Di hand Cioè La mano Qualche giorno prima Comunque giocare con Travis Scott Mi casa un botto Raga Non so se capita anche a voi Ma quando tipo uso La skin noob Mi sento più scarso Quando invece metto Qualche skin rara Mi sento più forte Ed effettivamente Gioco meglio in game Non so ragazzi Fatemi sapere Se anche per voi è così O magari So strano L'obiettivo ovviamente È fare victory royale Con 10 kill Ma intanto Fare la terza kill Così che vi posso mostrare Il terzo metodo Il terzo glitch Siamo alla stazione Tu dici Joe Ma devi prendere il treno Sinceramente no ragazzi Oh perfetto Prendiamoci questo Almeno ci facciamo un po' di shield Devo dire Meglio di nulla Oh mamma mia ragazzi Ma guardate come Mi fanno saltare Kipo o Pipo Soverei il record Alle olimpiadi Con questi brutti Vabbè Ah delle band Alleluia ragazzi Era ora che finalmente Ci facciamo un po' di vita E direi Oh sì c'è un player Oh ma come te permetti A bello di casa A bello di casa Ma hai saggetti kill Ma che vuoi fare È John Cena Allora Lui crede di avermi boxato Crede insomma Che ha fatto la grande provata In realtà io ho la mira Che è molto meglio della sua E secondo me lui Gioca pure da padio Sono da MK Quindi Occhio eh Allora Possiamo pushare in the box Perfetto Io ho preso il muro Guardate un po' ragazzi La fluidità con cui Effettivamente gioco Ecco di Vabbè Ma che vuoi fare Fantastico Sì proprio fantastico Vabbè dai Vediamo questo terzo metodo Ovviamente ragazzi Sapete già Sempre su Sussurra Scrivi questo Terzo codice Fortnite Chapter 5 Season 2 Due punti Receive 1833 Free skin Right now Due punti Spazio 056 358 258 742057 Invi il messaggio Riavvi il gioco E quando sei dentro Devi entrare dentro la mappa Alla mia isola Quando sei dentro la creativa Riavvi per la seconda volta il gioco E basta Sempre secondo quanto dice L'Iker americano Da cui ho preso questo glitch Riceverai le tue skin Ovviamente ragazzi Vi ricordo che questo è semplicemente Un video scopo informativo Per aggiornarvi Su quelli che sono Gli ultimi glitch Della season 2 Capitolo 5 Non li ho inventati io Questi glitch Ma li ho presi Da degli youtuber americani E ti ricordo che se vuoi avere skin L'unico e solo metodo Che devi utilizzare È quello di shopparle Direttamente Dallo shop di fortnite Quindi mi raccomando Io non mi assumo Nessuna responsabilità E ovviamente Mi deve squillare il cellulare Sì pronto Chi parla Mamma Sì sto arrivando Arrivo Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti